ci ritroviamo in compagnia di veronica maia ciao e bentrovata ciao grazie grazie a voi di questo invito poi qui allo sferisterio come dire ormai mi sento già a casa quindi possiamo stare per ore su questa meravigliosa balconata guarda qua è uno spettacolo conduttrice di musicultura 2021 per te la prima volta qui a macerata come sta vivendo questo esordio questo debutto guarda non è banale e già come in famiglia me l'avevano detto che musicultura aveva quest'anima veramente accogliente l'ho riscontrata dalle prime nei primi incontri quando abbiamo cominciato a lavorare sulle scalette quando ho conosciuto enrico poi la conferenza stampa e poi l'arrivo a macerata che non avevo mai visto in questa sua bellezza non ero mai entrata allo sferisterio è stato veramente un bel colpo al cuore la musica è sempre stata per te una grande passione come quando ti sei avvicinato a questa forma d'arte guarda la musica io sono nata con una mamma da una mamma che mi faceva ascoltare da mozart il requiem con in latino di cui conosco per esempio il testo lagrimosa in latino ai pink floyd passando anche per il quartetto cetra quindi puoi capire un po lo spazio e la musica poi l'ho studiata ho studiato per tanti anni pianoforte pensavo di proseguire con il conservatorio poi ho preferito la danza che è stato il mio primo amore poi è arrivato lo zecchino d'oro che insomma mi ha travolta per oltre dieci anni e ho condotto per diversi anni il festival show anche quelli bagni di folla non indifferenti quando la folla non faceva così paura come oggi devo dire tornare a fare qualcosa sul palcoscenico parlando facendo musica e con un pubblico dal vivo che applaude è molto bello oggi lo si apprezza di più la musica è la colonna sonora delle persone di tutte le persone c'è un pezzo che reputi particolarmente speciale per te che ogni volta che ascolti ti emoziona sono tanti sai dipende dai momenti della vita dai ricordi dagli up and down umorali e amorosi quindi non ti saprei indicare un solo brano certo se penso nel mio incontro con mio marito marco la musica brasiliana vanessa damata ecco può essere un po la nostra colonna sonora ieri sera nel corso della prima puntata di music cultura ti abbiamo sentita cantare con ericola purtroppo anche voi mi avete sentito a cantare non mi innamoro più con quale criterio avete scelto questo pezzo e che esperienza è stata ma il criterio era quello un po di giocare per cui pensando ai grandi duetti delle sigle televisive mini minopro alberto lupo mina fred bungusto katrin spa che insomma erano un po quelli riferimenti abbiamo voluto giocare non essendo io una cantante che si sappia e ne voglio diventarlo certo enrico è stato veramente molto generoso ad accettare questa cosa con me anzi è stato molto carino ho scelto lui il brano ovviamente lui il musicista e lui che ha la sua band io mi sono semplicemente affidata ho fatto questo debutto allo sferistero proprio con lui insomma lo ricorderò con grande emozione stasera faremo un altro duetto trottolino amoroso du du da 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 molto rock non vediamo l'ora non sei una cantante ma nel 2014 hai partecipato alla quarta edizione di tale quale show quindi ti chiedo come è stato misurarsi con personaggi diversi e soprattutto imparare ad utilizzare la tua voce in maniera diversa è stato molto difficile per un anno un cantante come dici tu a parte lo zecchino d'oro e tutti i personaggi disney anni ma quello forse un po più facile e l'emozione delle dell'ascensore l'emozione della diretta diciamo quello che mi ha i miei punti a favore erano la padronanza scenica venendo dal mondo della danza e del teatro quindi non era quello che mi spaventava ma la vocalità assolutamente sì paradossalmente ho usato a mio favore questa raucedine che a volte mi porto anche per una mancanza di tecniche quindi pezzi come l'ore dana bertè come david bowie anche insomma sono riuscita a farli molto bene altri con più fatica è stata una bella esperienza mi ha tolto un po di anni di vita però dai la rifarei la rifarei per concludere prendendo spunto dal nome della manifestazione che ci ospita secondo te la musica può essere considerata ancora oggi un veicolo una forma di cultura ma lo è assolutamente certo non sempre quello che sentiamo in musica ci può piacere ma è pure giusto così però è sicuramente una forma di manifestazione della cultura del pensiero della dello stato delle nostre anime o del nostro paese quindi quindi sì insomma tornando anche poi al concetto di musica di d'autore music cultura fa questo dalla possibilità ai giovani di poter produrre ed esibirsi con con i loro pezzi è una grande opportunità altrimenti mancherebbe poi nel tempo quel ricambio generazionale se stiamo sempre a cantare le cover poi tra dieci venti trent'anni esauriamo il serbatoio grazie mille veronica maria per essere stata con noi buona finalissimissimissima di music cultura in bocca al lupo che vinca il migliore ciao